Ciao a tutti, io sono Pasquale e siamo sempre qui a termoidraulica RV. Oggi vi parlo di un sistema, un refrigeratore da sottolavello, è un Honda Slim di Little Begis ed è qui a fianco a me. Con questo sistema è possibile ottenere acqua microfiltrata, a temperatura ambiente, naturale fredda e frizzante fredda. Vediamo come funziona. Entriamo nel dettaglio e vediamo come deve essere collegato questo macchinario e come funziona. Nella parte posteriore abbiamo l'ingresso dell'acqua, l'ingresso del CO2 e questo deve rimanere chiuso ed è semplicemente un'uscita che serve soltanto in fase di pulizia del macchinario. Come vedete qui c'è una manopola. Questa manopola gestisce il livello di temperatura dell'acqua fredda, quindi maggiore è il valore che noi gli diamo e più l'acqua sarà fredda, quindi in questo caso insomma un valore molto alto tra 3 e 4. Chiaramente c'è l'alimentazione elettrica e la cosa utile e importante è che a fianco all'attacco della presa elettrica abbiamo un fusibile. Questo fusibile protegge il macchinario da eventuali sbalzi di corrente, quindi anziché dover sostituire una componente elettrica del macchinario con un costo maggiore. Cambiando il fusibile noi risolviamo la problematica e salvaguardiamo il macchinario. Tra l'altro all'interno dello slot troviamo un altro fusibile in sostituzione, per cui per qualsiasi provenienza abbiamo già un fusibile in scorta. In uscita abbiamo tre collegamenti innesto rapido nella parte superiore del macchinario e quindi abbiamo l'uscita dell'acqua naturale ambiente, l'uscita dell'acqua fredda sempre naturale e l'uscita dell'acqua fredda frizzante. Nell'uscita dell'acqua fredda frizzante mettiamo questo che è un regolatore che va a migliorare il flusso dell'acqua frizzante in uscita. Come avviene la filtrazione dell'acqua? In ingresso appunto dell'acqua nel nostro macchinario dobbiamo innestare un filtro con attacco a baionetta come questo qua, il nostro Edenia AG Small da 0,5 micro con ioni d'argento per impedire proliferazione batterica. In questo caso l'acqua viene filtrata da questo filtro e dopo microfiltrata entra nel macchinario e quindi poi viene erogata con naturale ambiente, naturale fredda o frizzante fredda. L'acqua frizzante può essere erogata grazie a una bombola di CO2 che montiamo esternamente al macchinario appunto nella parte posteriore che abbiamo visto prima. Possiamo utilizzare diversi tipi di bombole, quindi bombole da chilo con attacco 11x1, le bombole da chilo con attacco A, le bombole da 2, le bombole da 4 con l'attacco 21.8x1, un 4x12x1. Per cui è molto vario e ampia la possibilità di scelta delle bombole da abbinare al macchinario. Per quanto riguarda invece l'erogazione, quindi il rubinetto che dobbiamo abbinare a questo macchinario, anche in questo caso le varietà sono molteplici perché noi possiamo andare dai classici rubinetti 3 vie per l'erogazione delle tre tipologie di acqua fino ai rubinetti 5 vie e aereubinetti 5 vie con doccetta estradibile e che consentono di erogare acqua calda e fredda normale e le tre tipologie di acqua che derivano appunto dal macchinario. Abbiamo visto tutti gli aspetti tecnici dell'Honda Slim da sottobanco, ora Chiara mi spiegherà tutte le offerte legate a questo macchinario e tutte le varie combinazioni possibili. Dopo aver visto gli aspetti tecnici ora parliamo dei vantaggi economici che avete in questi giorni per il prossimo anno. Acquistando un prodotto o più prodotti all'interno del nostro Black Friday che si terrà dal 25 di novembre al 4 di dicembre, pianteremo il doppio degli alberi per ridurre le emissioni di CO2 e in più riceverete questo piccolo omaggio. Romeo e Giulietta è il nostro piccolo omaggio ed è pensato come un momento benessere, quindi potete bere il nostro tè da soli o in compagnia con chi più amate, con il vostro cucciolo, magari la sera facculati sul divano. Noi vi mostreremo i nostri momenti Romeo e Giulietta a partire dal 25 di novembre sui nostri account social Facebook e Instagram. Ci farebbe molto piacere se condivideste con noi i vostri momenti Romeo e Giulietta, in che modo? Taggandoci sui nostri canali social o menzionandoci tramite la dicitura Ghiocciola Termitraulica RV. Per tutti quelli che guieranno le foto dal 25 al 4 di novembre riceveranno un coupon dopo il 4 di dicembre per l'appunto da utilizzare per tutti gli acquisti sul nostro store www.termitraulica rv.com valido per tutto il 2023. Quindi non perdete questa offerta anche perché grazie al bonus acqua non solo avrete lo sconto o l'omaggio ma potrete recuperare fino al 50% della spesa. Cos'altro dire dunque che vi aspettiamo sui nostri social e vi aspettiamo per tutti i vostri acquisti su Termitraulica RV.com. Io sono Chiara, grazie e alla prossima. Ciao!